Domani è importante vincere, è importante giocare bene, attraverso il gioco dobbiamo riuscire a vincere, però domani sera per noi ritornare alla vittoria in campionato è fondamentale. Credo che il Cesena già anche mercoledì con l'Inter nella partita di recupero abbia fatto una buona partita, una squadra che si difende molto bene, che ha una buona fase offensiva soprattutto nella riconquista della palla e quindi bisognerà stare molto attenti, non sottovalutare assolutamente il Cesena, ma fare una partita di grande intensità, di grande sacrificio, come è stata anche quella di giovedì in Coppa Italia contro il Bari e soprattutto per noi è importante riprendere a vincere in campionato, quindi bisogna affrontarla nel migliore dei modi. Credo che Clarence finora abbia fatto un ottimo campionato. Manuel Son È un giocatore di grandi qualità tecniche, dinamico, era un nostro obiettivo per il mercato di gennaio, quindi sarei molto contento se arrivasse. Pato deve rimanere sereno e tranquillo perché è un giocatore straordinario, un giocatore che ha grandi qualità. Cassano ha caratteristiche completamente diverse da Pato. Pato è più un finalizzatore, Cassano è un giocatore che più manda gli altri e chi più gli piace giocare. Credo che in questo momento qui la squadra sia pronta per riprendere il cammino, cercando, sapendo che non è assolutamente facile, la partita di domani sera di ritornerà alla vittoria. Non sono preoccupato nel senso che abbiamo Antonini che giovedì ha fatto una buona partita, sono contento perché aveva passato un periodo non felice. Zambrotta lo stiamo recuperando, però sicuramente non nell'immediato. Se arriva un terzino deve arrivare con i requisiti da Mila, altrimenti rimaniamo così e va benissimo così. Grazie.